Sicuramente la posizione di Laugh Tale all'interno del mondo di One Piece fa parte di quel gruppo dei grandi misteri dell'opera, e l'autore ci ha giocato molto su questo particolare fatto, e non sappiamo se avesse le idee chiare fin dall'inizio o se le ha cambiate durante la serializzazione del manga, perché ricordiamo che Crocus racconta un modo per arrivare a Laugh Tale, che si è rivelato errato, infatti con quel modo si arriva a Lodestar, e a Zou scopriamo il vero modo per raggiungere l'isola leggendaria, e in questo video vi dirò dove è probabilmente ubicata, e a cosa potrebbe essersi ispirato Oda per nascondere Laugh Tale, e perché quest'ultima è collegata a Lodestar? Ma ovviamente direi di andare con ordine a non perdere altro tempo e di iniziare subito, ma non prima di aver messo un bellissimo like per supportare il video ed iscriviti se non l'hai già fatto, ti ringrazio. Allora, abbiamo scoperto, grazie alla piccola saga dedicata a Zou, che per raggiungere Laugh Tale bisogna leggere 4 Ponegriff speciali, essi vengono chiamati Road Ponegriff, e sono anche di un colore diverso da quelli normali, ma parleremo dopo di questo particolare. Naturalmente Road significa strada, e Ponegriff significa testo della storia, o qualcosa di simile, quindi il tutto sta a significare la strada verso la storia. Al di sopra di questo Road Ponegriff ci sono scritte delle indicazioni, che portano in un certo luogo. Ah, apro una piccola parentesi, se i Road vengono spostati, le indicazioni scritte al di sopra di esse non variano, portano sempre alla medesima destinazione. Chiusa parentesi. E leggendo tutti e quattro Road Ponegriff e scoprendo tutti e quattro luoghi scritti sulle grandi antiche pietre, quest'ultime posizioni vengono segnate su di una mappa e bisogna tracciare delle linee che congiungono tali luoghi e nelle intersezioni tra di esse è possibile scoprire il luogo esatto in cui si trova Laugh Tale, e fino a qui è tutto normale. Noi sappiamo che One Piece è un'opera incentrata sui pirati, e trovare il tesoro, tra virgolette, che Joy Boy ha lasciato su quella misteriosa isola, fa parte comunque dell'essere un pirata, oppure no. Cioè, noi sappiamo che i pirati nascondevano i loro tesori su delle isole scelte e contrassegnavano quel luogo disegnando una X su di una mappa. E ciò che fanno i Road Ponegriff è proprio questo, ossia segnare con una X sulla mappa del mondo di One Piece e in questo punto si trova l'isola leggendaria, il tanto agognato tesoro. Quindi tutto quadra. Oda ha preso di pari passo ciò che i pirati facevano ed ora che abbiamo scoperto che Joy Boy è stato il primo pirata, il tutto fila perfettamente. Inoltre, io penso che l'autore possa averci messo davanti agli occhi il luogo in cui si trova Laugh Tale, senza però farcelo capire. Infatti, se guardiamo attentamente la mappa del mondo di questo manga, possiamo vedere perfettamente che c'è una X gigantesca, che poi sarebbe la Reverse Mountain. Ebbene, io penso che Laugh Tale si trovi proprio al centro di quest'ultima. Non so se sta sotto o sopra, questo non è nel mio interesse, ma penso che si trovi lì. Perché? Se ci pensate, i protagonisti devono fare il giro completo della Grand Line, tornando al punto di partenza, dato che lì c'è l'Ovon che sta aspettando Brook, e abbiamo scoperto che l'ultima isola in cui i Log Pose puntano si chiama Lodestar e non Laugh Tale. E se quest'ultima si trovasse comunque nel nuovo mondo, è impossibile che nessuno l'abbia trovata per caso, soprattutto la marina e altre navi che posseggono le chiglie costruite con la galmatolite e possono navigare senza problemi anche nelle fasce di bonaccia. Quindi per me si deve trovare in un luogo in cui è difficile accedere. E il centro della Reverse Mountain è perfetto. E se ci avete fatto caso, la Reverse Mountain è rossa, perché fa parte della Red Line. E i Road Ponegriff di che colore sono? Esattamente. Sono rossi. Oda poteva colorarli di giallo, di verde, eccetera. Ma no, li ha colorati di rosso. E penso che questo sia l'indizio più grande che possiamo ricevere per quanto riguarda l'ubicazione dell'isola misteriosa. Il mangaka potrebbe anche averci dato tante informazioni, come il quantitativo di X sparsi ovunque nella sua opera, oppure qualcosa nel logo del manga, tipo la O, che se la sovrapponiamo alla Red Line combacia perfettamente e potrebbe farci capire che lì si trova il tesoro. Dico ciò perché ricordo benissimo come veniva disegnato il logo di One Piece nelle prime opening dell'anime. La O diventava appunto una X, come se fosse disegnata per indicare un luogo in cui si trova un tesoro. Ma di questa cosa ne ho parlato in un video apposito, che vi linko qui sopra sulle schede e in descrizione. Dategli un'occhiata. Inizialmente pensavo che per raggiungere Laugh Tale servivano le armi ancestrali, ma per quanto ne sappiamo Roger è riuscito ad arrivare fin lì senza l'uso delle tre armi, quindi a quanto pare non è così. Ma penso che la Thousand Sunny farà il suo. Ad ogni modo, anni fa feci delle ricerche sui miti dei continenti leggendari che si dice siano esistiti nel nostro mondo, come per esempio Atlantide, Lemuria e Mu. Ma questi ultimi non sono gli unici miti su questi fantomatici continenti, infatti casualmente mi sono imbattuto in Iperborea. E vedendo la mappa disegnata da Mercatore che riguarda il polo nord, che è legato al popolo di Iperborea, possiamo notare che questo luogo che vediamo è praticamente identico alla Reverse Mountain. Cioè è proprio uguale uguale, e al centro di questa mappa c'è qualcosa. C'è un isolotto, che Mercatore denominò Rupes Nigra. Infatti si dice che fosse un'isola fantasma e che su di essa c'era una gigantesca montagna nera magnetica. Poi ci ritorneremo su questo particolare fatto. Inoltre si diceva che alla base della montagna le acque erano squarciate da vortici possenti che facevano defluire gli oceani verso il centro della terra, intorno al quale si situavano quattro paesi separati. Ora, io non voglio dire niente, ma la prima volta che Oda ci mostra Laugh Tale, possiamo notare che è colpita da venti forti e mare in tempesta. E quando si parla del fatto che l'acqua defluiva verso il centro della terra, non so se ci avete fatto caso, ma al centro della Reverse Mountain defluiscono le acque di tutti e quattro i mari, e quel punto si trova al centro del mondo. Infatti dall'altra parte, sullo stesso asse, si trova il trono vuoto, che si dice sia situato al centro della terra. E non finisce qui, perché attorno alla Rupes Nigra si dice che si potevano trovare quattro paesi diversi. Quest'ultima parte possiamo attociarla su due cose in One Piece. La prima riguarda i quattro mari, e la seconda riguarda i quattro Rod Ponegriff. A me sinceramente sembrerebbe che tutto combaci perfettamente, tranne per quanto riguarda la montagna nera magnetica. Infatti, anni fa pensavo che il problema del magnetismo fosse dovuto a questa pietra che era situata su Laugh Tale. Ora invece ho cambiato idea, e penso che quest'ultima potrebbe trovarsi proprio su Lodestar. Dico ciò perché Mercatore ha ipotizzato che esistesse questo gigantesco magnete così da spiegare il funzionamento delle bussole e del perché puntassero sempre verso il nord. E collegando questo a One Piece possiamo pensare che tutti i Log Pose alla fine puntano lì, ossia su Lodestar, per colpa di questo gigantesco magnete che influenza i minerali di tutte le varie isole che si trovano sulla Grand Line. Infatti nella prima parte della rotta maggiore si usa un semplice Log Pose, perché queste isole sono abbastanza lontane da Lodestar e il campo magnetico non è così potente. Invece nel nuovo mondo la cosa cambia, e c'è bisogno di un nuovo Log Pose, quello a tre punte, proprio perché il campo magnetico è tipo impazzito, e questo potrebbe collegarsi al fatto che le isole della seconda parte della Grand Line siano più vicine al gigantesco magnete che si dovrebbe trovare appunto su Lodestar. Tornando però alla Reverse Mountain e alla mappa di Mercatore, c'è un'altra cosa che li unisce. Mercatore fece quella mappa per disegnare il polo nord e sappiamo che lì fa molto freddo e in quel luogo possiamo trovare gli iceberg. Ebbene, la Reverse Mountain viene associata proprio ad un iceberg. Ma ad ogni modo, che mitologia si nasconde dietro ad Iperborea? Si dice che questa terra fosse abitata da una popolazione di grandi navigatori caratterizzati dall'alta statura, con spiccate doti scientifiche ed astronomiche e con una potente abilità in campo edilizio. Già con questa descrizione possiamo assolutamente pensare all'antico regno e al fatto che Joy Boy sia proprio un nativo di questo luogo, cosa confermate direttamente nel capitolo 1114. E la sua alta statura potrebbe collegarsi al cappello di paglia gigante situato nelle segrete di Mari Joa. Inoltre sappiamo che quel grande regno era supercivilizzato e penso che conoscevano quasi tutto del mondo in cui vivevano e ciò che c'era nello spazio attorno a quel pianeta. Dunque questa descrizione io la vedo perfetta. Inoltre si diceva che su questa terra il sole era alto in cielo per ben 24 ore al giorno, quindi sempre. E questo io lo collego al luogo in cui ora si trova Ennis Lobby. Ricordiamo che questa struttura è stata costruita al di sopra di un gigantesco buco nell'acqua, che potrebbe aver cambiato drasticamente il mare che circonda Ennis Lobby. Infatti lì attorno le acque sono super agitate e solo grazie alle gigantesche porte del governo che aprendole e chiudendole riescono ad arginare il problema ed usare quelle correnti per i loro scopi. Dunque, prima di quel buco nell'acqua sorgeva qualche civiltà importante che poi è stata distrutta? Ma non è finito qui. Nei vari miti che circonda il popolo di Iperborea ce n'è uno che ha destato particolarmente la mia attenzione. E parlo del fatto che questi ultimi regalavano doni agli altri regni custoditi, anzi, avvolti da paglia di grano. E gente, quando si parla di paglia non possiamo pensare al cappello che possiede Rufy, ed anche questo è un probabile indizio. Io penso che Oda potrebbe aver attinto un po' dalla mitologia che ci racconta la storia di Iperborea e dei suoi abitanti, e potrebbe aver spostato le varie informazioni all'interno del mondo dagli stesso creato. Naturalmente vi lascio tutta la mitologia in un link qui sotto in descrizione, perché se dovessi parlarle in modo completo ci mettere una vita. Sono sicuro poi che l'autore non abbia attinto solo da Iperborea, ma anche dagli altri continenti leggendari, soprattutto Atlantide e Mu. Ah, prima che qualcuno dica, guarda è copiato questo, è copiato a quello, vi fermo subito. Questo video che ho appena fatto è un aggiornamento di tre video che feci nel 2017 e uno nel 2018, quando iniziai a fare video qui su YouTube, e se non ci credete andate a controllare. E già all'epoca io parlavo dei continenti leggendari ed Iperborea. Vi lascio come sempre i video qui sotto in descrizione. Naturalmente alcune cose erano sbagliate, ma tante altre sono ancora valide tuttora, ed ho cercato di aggiustare il tutto, aggiungere qualche extra e creare un video nuovo ma che seguisse fedelmente ciò che dissi 7 e 6 anni fa. Vi do un'ultima chicca. C'era un dio, un vecchio dio inca chiamato Viracocha, che si dice sia quel dio che ha creato tutto. Chissà se Oda abbia attinto anche a questa misteriosa divinità per quanto riguarda la creazione del mondo di One Piece, o Annika. E che dire, penso di aver detto tutto, ora sta a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate del video e delle teorie fatte, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati, passate sul canale telegram di One Piece Unity per discutere di questa teoria insieme ad altri appassionati come voi e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.